L'accusa mossa dalla Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Tributaria del Comando Provinciale di Caltanissetta è quella di avere determinato un danno erariale di oltre 3 milioni di euro. Un'indagine meticolosa delle Fiamme Gialle che si è conclusa con la segnalazione alla Corte dei Conti di 13 persone. Tra loro c'è anche il Sindaco di Butera. L'attività investigativa riguarda inoltre funzionari del Dipartimento Industria della Regione Sicilia, il responsabile del settore urbanistica del Comune di Butera, il responsabile unico del procedimento, progettisti, direttore dei lavori e rappresentanti legali delle ditte appaltatrici. Tutto ruota attorno ad una gara d'appalto indetta dal Comune buterese per la realizzazione di un parco eolico finanziata con fondi erogati dalla Regione Sicilia. La Guardia di Finanza ha accertato che dopo oltre 12 anni dall'inizio dei lavori, a seguito di diverse varianti e suppletive, la ditta appaltatrice non ha portato a termine i lavori e che il Comune di Butera, in qualità di stazione appaltante, non ha vigilato al fine di evitare lo sperpero di denaro pubblico. Inoltre, la Regione Sicilia, Dipartimento Industria, non ha risultato aver svolto i propri compiti di vigilanza e di controllo e non ha avviato una procedura di recupero delle somme finanziate come previsto dalle norme vigenti. L'attività d'indagine della Guardia di Finanza rappresenta, nell'ambito del contrasto agli abusi e agli sprechi, un importante tassello al fine di ripristinare le condizioni per il corretto impiego delle risorse pubbliche.